Come promesso abbiamo rispettato i tempi e quanto afferma la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese in un videomessaggio pubblicato su Facebook nella mattinata di oggi è dedicato all'apertura di tutte le scuole del territorio avvenuta nella giornata di ieri. Ora, è il commento della sindaca, possiamo dire che l'anno scolastico 2018-2019 ha davvero avuto inizio. Innanzitutto volevo augurare buon inizio di anno scolastico a tutte le bimbe, i bimbi, i ragazzi che hanno iniziato l'anno accademico soprattutto buon inizio a coloro che sono entrati nelle scuole nuove. Come promesso, nonostante qualcuno aveva messo in dubbio, c'erano delle voci in giro che non saremmo riusciti a terminare i lavori io voglio ringraziare pubblicamente tutto lo staff dell'ufficio tecnico ma soprattutto la ditta che ha lavorato giorno e notte anche nel weekend per permettere a voi ragazzi di entrare ieri nelle due scuole sia le Fiorentine che si spostano, le Marconi e presso il seminario le scuole elementari. Grazie veramente, io penso che questa comunità e ringrazio soprattutto le tante mamme presenti, sorridenti che hanno capito il disagio e che ci sono stati vicino e continuano a starci vicino perché capiscono che se abbiamo iniziato questi lavori, se abbiamo avuto il coraggio di chiudere per una prospettina nuova è semplicemente per garantire la sicurezza ai nostri figli, ai nostri nipoti e per riqualificare quell'area. Io voglio che questo sia lo spirito, lo spirito di una comunità che si unisce e che vuole fare e che comprende. Con questo spirito battivaglia può ritornare ad essere veramente la città che era una volta ed è su questo che dobbiamo lavorare. Quindi io ringrazio tutti quanti voi e bimbi buon inizio anno scolastico.